Si avvicina la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo e siamo in compagnia del parroco don Carlo Pisani che ci illustrerà il programma dei relativi festeggiamenti. Sì, siamo ormai nell'imminenza dell'inizio del novenario e anche quest'anno come lo scorso per via delle restrizioni Covid non ci saranno le manifestazioni esteriori come le processioni così come già avevamo preannunciato precedentemente. Tuttavia c'è un intenso percorso che siamo invitati a fare in questi nove giorni partendo proprio da sabato prossimo 19 giugno quando intronizzeremo le statue dei santi patroni all'inizio della celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre. Il giorno successivo inizierà il novenario mentre il 21 avremo un momento bello, importante, di forte impatto che è la visita delle immagini dei santi patroni al nostro ospedale civile. Lì alle ore 19 celebreremo la novena e la per il personale medico sanitario e in modo particolare saremo invitati a pregare per loro e per gli ammalati di Covid che ancora sono ricoverati nel nostro nosocomio cittadino. Quindi un momento che vogliamo vivere come comunità cristiana per ribadire la nostra vicinanza a coloro che fanno del bene e a coloro che soffrono. Un altro momento importante sarà il 23 giugno alle ore 19 la celebrazione eucaristica per i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri che in questo anno si sono spesi e continuano a spendersi nella assistenza ai centri vaccinali. Il giorno 26 poi nella piazza d'armi del Castello alle ore 18 e 30 la Suoccellenza Monsignor Miniero, il Vescovo Dio Cesano, amministrerà il sacramento della confermazione. Il giorno 28 poi, la vigilia dei Santi Patroni, accoglieremo l'immagine di San Costabile Gentiliscore, patrono di Castellabate ma soprattutto patrono secondario della Diocesi di Vallo. L'anno prossimo si celebrerà il quarantesimo anniversario della proclamazione di San Costabile a patrono secondario della Diocesi e quindi in preparazione a quell'evento l'immagine del Santo visiterà dei luoghi significativi della nostra comunità diocesana e siamo veramente molto contenti che questo inizi da Agropoli anche per il legame geografico e storico che unisce le due comunità di Agropoli e Castellabate. L'immagine del Santo sosterrà qui poi per tutto il giorno successivo, ma prima la sera, all'accoglienza nella sera del 28, pregheremo insieme con alcuni rappresentanti della comunità di Castellabate i primi Vespri. Il giorno della festa avremo la mattina le celebrazioni delle sante messe alle 7, alle 8, alle 9 e alle 10.30 nella Chiesa Madre. Dopo la celebrazione delle 10.30 reciteremo insieme la supplica ai Santi Patroni. Il pomeriggio poi vivremo un altro momento conclusivo della giornata, il momento conclusivo della giornata, con la celebrazione eucaristica nella piazza d'armi del Castello che sarà preseduta da sua eccellenza reverendissima Don Riccardo Guariglia, abate dell'Abbazia di Montevergine e di San Pietro in Assisi, il nostro conterraneo di Santa Maria, insieme a Don Roberto, già parroco qui di Santi Pietro e Paolo, e parroco di Castellabate e Santa Maria, alla presenza delle autorità dei due comuni. Quindi un momento bello di condivisione, fatto ovviamente in sicurezza, con il mantenimento delle distanze che ci assicura la piazza d'armi del Castello. Il giorno successivo, poi, il 30 giugno, con la celebrazione delle ore 19 nella Chiesa Madre saluteremo l'immagine di San Costabile che verrà riportata nella Chiesa collegata, Basilica Pontificia minore di Santa Maria Assunta in Castellabate per poi ripartire nei prossimi mesi per altri luoghi importanti della Diocesi. Quindi un invito alla comunità agropolese a vivere questo momento forte di condivisione e di comunione, non solo nel segno dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, che sono i due principi della Chiesa, cioè i due fondamenti della nostra fede, ma anche guardando a questo esempio luminoso di santo che è stato San Costabile, che è un santo della nostra terra.